2.1 eccellenza tutti 2.1 ma avevano 3.000 dico sì, è così che hai detto non alleno più la palla no è già la seconda volta che succede che se ne vanno tempo fa c'è una grucia di non mi ricordo qui era stato Paolo vabbè lui sape che mia moglie mi sta spostando tanto dunque ora ci sentiamo io gli dico a bravo bravo mio gli dico ok bravo bravo bravo